Nelle ultime settimane si è tornati a parlare con una certa insistenza di centri sociali. Un tema, nella nostra attualità, che porta con sé sempre lo stesso aneddoto su Matteo Salvini e la sua frequentazione da giovanissimo con gli ambienti della sinistra extraparlamentare. Abbiamo ricostruito l'evoluzione di questa leggenda metropolitana e questa è la storia di come, no, Salvini non abbia frequentato Leoncavallo, né tantomeno sia stato un cosiddetto comunista padano. Sono Simone Fontana. Io sono Anna Toniolo. E questo è Veramente, il podcast di facta che, una volta a settimana, affronta i principali temi di attualità nell'ottica della disinformazione, raccontando il modo in cui false narrazioni e stereotipi impattano sulla vita di persone e comunità. Dove eravamo rimasti? Come avrete certamente notato, le vicissitudini attorno alle elezioni statunitensi ci hanno fatto perdere di vista per qualche tempo il quadro delle cose di casa nostra. Archiviata la lunga corsa alla Casa Bianca, e in attesa dell'insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è giunto però il momento di riavvolgere il nastro, andando a recuperare una storia piccola, ma piuttosto emblematica del rapporto tra giornalismo e politica in Italia, e di come il cortocircuito tra questi due mondi sia in grado di generare una bugia davvero molto, molto simile alla verità. È decisamente dura a morire. Lo scorso 9 novembre, a Bologna, si sono verificati scontri tra gruppi di collettivi antifascisti e le forze dell'ordine, intervenute per tenerli lontano da una manifestazione organizzata da alcuni gruppi di estrema destra che si sarebbe dovuta concludere in piazza 20 Settembre, a due passi dalla stazione centrale della città. La stessa dove il 2 agosto del 1980 è avvenuta una strage di matrice neofascista costa dalla vita 85 persone, e che ancora oggi rappresenta una ferita aperta per la città di Bologna. Commentando questi fatti, Salvini ha definito comunisti delinquenti e criminali da centro sociale le persone coinvolte nei tafferugli con gli agenti di polizia, dichiarando di voler, e cito, chiudere i centri sociali occupati abusivamente dai comunisti che sono ritrovi di criminali. Zecche, rosse, comunisti, delinquenti, criminali da centro sociale, non lo so, definiteli come volete voi, però quello che abbiamo visto ieri a Bologna e a Milano è qualcosa di indegno, di vergognoso, che non si deve più ripetere. Chiudere i centri sociali occupati abusivamente dai comunisti che sono ritrovi di criminali. Ecco, in queste circostanze, e intendo in questa precisa circostanza, accade sempre la stessa cosa. E più attenti tra voi lo avranno intuito. Quando il leader della Lega finisce al centro della cronaca politica, i giornalisti o gli editorialisti ricordano che da giovanissimo l'attuale ministro dei trasporti, nonché vicepresidente del Consiglio nel governo Meloni, era un assiduo frequentatore dello storico centro sociale milanese di sinistra Leon Cavallo. Ogni volta, poi, questo racconto viene accompagnato da un altro aneddoto relativo agli albori dell'esperienza politica del leader leghista, e cioè quello secondo cui, sempre da giovane, sarebbe stato un cosiddetto comunista padano. Questi resoconti giornalistici vengono utilizzati per raccontare, in alcuni casi, l'evoluzione del suo pensiero politico, in altri per denunciarne la contraddizione. Le stesse ricostruzioni e gli stessi commenti erano circolati anche nel 2018, in particolare dopo l'ottimo risultato elettorale della Lega alle elezioni politiche di quell'anno, e dopo la nascita del governo Conte 1, sostenuto da una maggioranza formata da Lega e Movimento 5 Stelle, e con Salvini nominato ministro degli interni. All'epoca, a Tagadà, trasmissione sulla politica ancora oggi in onda sulla Sette, si parlava, ad esempio, di, e cito, la storia rivoluzionaria di Salvini dal Leoncavallo alle Ruspe. Ma simili ricostruzioni giornalistiche arrivano ancora più indietro nel tempo. In un ritratto di Salvini del 2004, quando era europarlamentare, Repubblica scriveva Buona famiglia milanese, Il papà dirigente d'azienda e la mamma casalinga. La passione per il calcio coltivata all'oratorio dei Santi Nabore e Felice, in zona a bande nere. Le medie dei preti, il liceo al Manzoni, le domeniche a San Siro a seguire l'ammatissimo Milan o in gita con i Boy Scout, di cui è stato lupetto per cinque anni. Tutto questo prima dei concerti rock e delle serate al Leoncavallo. Quindi, davvero Matteo Salvini, da giovanissimo, era stato un assiduo frequentatore del censo sociale milanese prima di diventare il leader di un partito di estrema destra? E davvero l'attuale vicepremier è stato in gioventù un appassionato comunista padano? Ecco, no. O almeno, non proprio. Ma facciamo un passo indietro. Siamo a Milano nel 1994. Dopo un lungo periodo di tensioni tra la giunta comunale guidata da Marco Formentini, primo sindaco leghista di Milano dal 93 al 97, e il Leoncavallo, sabato 10 settembre un grande corteo sfila per le vie della città per protestare contro lo sgombero del mese precedente. La giornata finisce con pesanti scontri tra le forze dell'ordine e parte dei manifestanti. Il 13 settembre il Corriere della Sera nella pagina dedicata alla notizia pubblica un articolo a firma di Elisabetta Soglio intitolato Il leghista ex Leonca conquista il consiglio. Conosco quei ragazzi, i violenti sono pochi. Nel pezzo si legge che un giovane di 21 anni di nome Matteo Salvini, leghista dal 1990 ed ex frequentatore del Leoncavallo, durante il dibattito della sera precedente in consiglio comunale, aveva fatto un intervento lasciando i presenti, e cito, senza parole e mettendo tutti d'accordo. La giornalista raccontava che Salvini aveva preso parola per raccontare che per anni aveva frequentato il Leoncavallo e che molti suoi amici si riunivano ancora lì. Citando con virgolette parti di quell'intervento, Soglio riportava che il giovane leghista aveva spiegato che, e cito, nei centri sociali ci si trova per discutere, confrontarsi, bere una birra e divertirsi, assicurando che quelli che lui conosceva nel Leoncavallo non prenderebbero mai in mano un sasso o una spranga. Nel finale, Salvini si era appellato ai suoi coetanei, chiedendo di rifiutare la logica dello scontro armato. L'articolo del Corriere della Sera informava poi che Salvini, fuori dall'aula, aveva detto che dai 16 ai 19 anni, mentre frequentava il liceo classico Manzoni, aveva passato del tempo a Leoncavallo. E qui cito ancora le sue parole. Stavo bene, mi ritrovavo in quelle idee, in quei bisogni. Poi Salvini aveva incontrato la Lega e a quel punto, continua ancora il leader leghista, per un periodo ho continuato a frequentare i centri sociali. Poi ho avuto guai, ma non dai miei coetanei. A creare problemi sono sempre quelli lì, i 35-40 anni, che strumentalizzano i giovani e forse sono strumentalizzati loro stessi. E proprio quell'intervento in consiglio comunale è ancora oggi alla base della leggenda del Salvini frequentatore dei centri sociali, una storia che, come tutti i miti fondativi, è davvero troppo bella per essere messa alla prova della realtà. Eppure, parallelamente alla diffusione mediatica di questo racconto, sono emerse testimonianze che hanno mostrato l'infondatezza di questa presunta frequentazione citata a 30 anni orzono. Paradossalmente, il primo ad aver smentito questa leggenda è stato lo stesso Salvini, che nel suo libro Secondo Matteo, Follia e Coraggio nel Cambiare il Paese, pubblicato nel 2016, non fa mai menzione di questa storia. E anzi, il Leoncavallo viene citato solo due volte, a pagina 62, per smentire proprio di averlo mai frequentato. Salvini ricorda che il suo primo intervento del 1994 in Consiglio fece piuttosto scalpore, perché, dopo la manifestazione del Leoncavallo e gli scontri con le forze dell'ordine, e cito, tra lo stupore generale, dissi più o meno i teppisti vanno presi e puniti, ma non tutti quelli che vanno al Leoncavallo sono dei disgraziati. Quella dichiarazione, continua il libro, fece guadagnare al giovane leghista un'intervista scritta da Elisabetta Soglio, la giornalista che seguiva le vicende di Palazzo Marino per il Corriere della Sera. Salvini ricorda che dopo la pubblicazione di quell'articolo, i detrattori iniziarono a darmi impunemente del comunista, spiega. Ed è a questo punto che il leader leghista afferma di non essere, e cito, mai stato un compagno e la mia storia lo dimostra, aggiungendo di aver messo piede nello storico centro sociale milanese solo una volta in vita mia per un concerto, quando la politica ancora non mi interessava. La stessa smentita sul suo rapporto politico con il Leon Cavallo, Salvini la fornisce nel 2019 durante un'intervista a diversi giornalisti. insomma, il Salvini del 2016 non sembra essere granché d'accordo con quello del 1994. Un libro inchiesta di Claudio Gatti del 2019 intitolato I demoni di Salvini, i post-nazisti e la Lega, la più clamorosa infiltrazione politica della storia italiana, conferma che quella della frequentazione assidua di Salvini del Leon Cavallo è proprio una leggenda priva di qualsiasi riscontro. Diversi compagni di classe e professori del Manzoni intervistati dal giornalista hanno infatti dichiarato di non aver alcun ricordo di una frequentazione di Salvini del Leon Cavallo né di un ambiente simile. Anzi, in base alle verifiche e ricostruzioni di gatti, all'epoca del liceo i suoi più stretti compagni di classe erano un ragazzo dichiaratamente fascista e un altro, definito da due insegnanti, di destra. Anche perché Salvini si iscrisse alla Lega Nord, allora guidata da Umberto Bossi, nel 1990, quando aveva 17 anni. Nel 1993, a 20 anni, Salvini diventò uno dei consiglieri leghisti che sostennero la giunta Formentini. Nella sua prima intervista, pubblicata quello stesso anno dal Corriere della Sera, Salvini dichiarava di sognare una città più sicura, con meno disoccupati, ma soprattutto più gradevole. Sempre nel 1993, tra ottobre e dicembre, la giunta di Formentini, sostenuta da Salvini in consiglio comunale, aveva per questo approvato una delibera per far demolire lo stabile dell'allora sede del Leoncavallo, ritenuta pericolante, e un'altra per avviare uno sgombero della struttura. Come anticipato, la frequentazione giovanile del Leoncavallo è spesso citata di pari passo con il riferimento al comunista padano, come prova di un passato a sinistra del leader leghista. Salvini, ricordano questi articoli, si era infatti presentato nel 97 al cosiddetto Parlamento della Padania come capolista dei comunisti padani, che aveva nel simbolo la falce e il martello. Anche qui vale la pena ricostruire un po' di tappe. Il 26 ottobre 1997, nel nord Italia e in diversi territori delle regioni centrali, le persone si recarono a votare simbolicamente in Seggi Gazebo per le elezioni del Parlamento della Padania. Si trattava di un organo fondato da Umberto Bossi che avrebbe dovuto redigere la Costituzione del nuovo Stato che la Lega Nord diceva di voler creare, anche se in concreto non nacque, ricostruisce Gabriele Maestri nel suo libro Padani alle urne. Furono presentate 46 liste con 1146 candidati. Al termine delle votazioni i comunisti padani ottennero 5 seggi su 210. Capolista della lista, come detto, fu Matteo Salvini. Tuttavia, l'idea di candidarsi in quella lista specifica non era venuta da Salvini. Come raccontato infatti al giornalista Claudio Gatti da Angelo Alessandri, presidente federale della Lega Nord dal 2005 al 2012, alla fine del 1996 a Bossi venne l'idea di fare le elezioni padane e mi chiese, ha riportato Alessandri, di costruire un paio di liste, di inventarmele. L'ex dirigente leghista spiega così che nel Parlamento padano dovevamo avere rappresentato tutto lo spettro istituzionale. Quindi io mi inventai tre o quattro liste da aggiungere a quelle che già c'erano. Ce n'era una di Vito Gnutti che era liberale, quella dei socialdemocratici di Formentini, una dei libertari. Io me ne inventai un'altra un po' più spinta sulla padania e quella dei comunisti padani. Venendo dall'Emilia era anche quasi scontato. Mi pareva carina questa cosa con la falce e il martello, anche per vedere chi andava a votare dei comunisti. Al momento di scegliere i candidati, continua Alessandri, scegliemmo come portavoce questo giovane ragazzo di cui a Milano parlavano tutti bene. Perché girava voce che venisse da Leon Cavallo. Ricordiamo che siamo nel 1997, quindi tre anni dopo l'articolo del Corriere in cui lo stesso Salvini aveva dichiarato di frequentare il centro sociale. Contattato, Salvini accettò la proposta di Alessandri e in questo modo la lista comunisti padani fu costruita. Salvini non si era dunque unito a quella lista per adesione ideologica ma perché chiamato a partecipare proprio dal partito in un'operazione preparata a tavolino e piuttosto folcloristica. Lo stesso Salvini nel suo libro del 2016 scrive Certo, gli indizi per etichettarmi come comunista c'erano tutti ma la realtà era ed è profondamente diversa. Non sono mai stato un compagno e la mia storia lo dimostra. E Matteo Salvini questa volta ha ragione. La storia dimostra abbondantemente la distanza ideologica tra il leader leghista e il mondo della cosiddetta sinistra extraparlamentare. Quanto alla leggenda beh, questo è tutto un altro campo. L'aneddoto del Salvini da centri sociali è una nota di colore utile a impreziosire retroscena dei giornali così come in passato è stato uno spin utile affinché lo stesso Salvini potesse affacciarsi alla politica nelle vesti della giovane promessa senza pregiudizi. Una storia che è servita a tutti tranne che ai lettori spettatori ed elettori. un particolare di poco conto in fondo se hai a cuore solo la coerenza della trama. FACTA è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Sceglie a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social Facebook Instagram TikTok e Blue Sky Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero Whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843 Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione potete seguire il nostro canale Telegram e il nostro canale Whatsapp Il podcast di Facta è scritto da Simone Fontana e Anna Toniolo è prodotto da Jessica Mariana Masucci Io sono Anna Toniolo e questo era veramente il podcast di Facta